Shalom, Shalom, Shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti l'ordi dovuto al Padre Yahawa nel nome di suo figlio Yahawa Shai, nostro re e renentore, e miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità. E come sempre mi saluti alla Casa di Israele, a coloro che con sincerità cercano questa verità e fanno sì per farlo arrivare ai quattro punti della terra. Questa lezione Yahawa Shem Yahawa Shai volendo, la terra breve, sarà riguardo la carne, lo stato uomo, carne e il suo spirito, ok? Perché spesso tanti di voi e di noi quando sentiamo questa verità vogliamo darci dentro, ok? Ed è il nostro spirito che fa questo lavoro qui. Sappiamo che è vero e vogliamo fare tutto il possibile per essere parte di questi eletti della Casa di Israele, è lo spirito che fa questo. E spesso ci sentiamo proprio debolissimi, vogliamo fare delle cose mondane, tornare nel nostro passato, a fare delle cose che abbiamo lasciato. Qualche volta non ci sentiamo di studiare le scritture, non ci sentiamo di far arrivare questi messaggi a nessuno, vogliamo commettere qualche peccato così per gratificare la carne. Questo non è lo spirito, è la carne. Quello che vi farò capire in questo video attraverso i poteri del Padre Yahawa Shem Yahawa Shai è che la carne è controllata dall'avversario, ok? Infatti la nostra carne deriva dal polvere, come abbiamo letto nel libro di Genesi, siamo stati formati dal polvere, ok? E se andate a vedere la radice e altri significati di questo polvere significa confusione, ok? Perciò dalla confusione fu uomo, ok? Ecco perché abbiamo uno stato di confusione spesso, abbiamo uno stato d'animo stabile, ok? Grazie a questo nostro stato di carne, ok? E attraverso la nostra carne, Satana che è l'avversario, la parola Satana vuol dire avversario, ok? Qui opera attraverso la nostra carne, ok? E il Padre opera attraverso il nostro spirito. Ecco perché dobbiamo cercare in tutti i tempi di essere nello spirito, altro che la carne, ok? Ora iniziamo leggendo dal libro di Romani, da versetto 18, che dice, difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no, ok? Questo è l'Apostolo Paolo che sta spiegando che nella sua carne non abita alcun bene, ok? Perciò molti di noi vogliamo gratificare la nostra carne, vogliamo avere i vestiti più belli, vogliamo fare i tatuaggi belli, vogliamo gratificare la carne, ok? Ma vi dico, non c'è nulla di bene nella gratificazione della carne, non c'è nulla di bene che segue questa carne qui, ok? Infatti noi fedeli sappiamo, se leggete dal libro di Primo Corinzi 15, 39, dal versetto 39 in giù, vedrete che ce ne sono diversi gradi, ok? Che vedremo cambiati, ok? A ritorno del figlio del padre, Yahweh Shai, vedremo dati nuovi corpi, ok? E non saranno più questo, non avremo più questo corpo di carne, questo corpo di carne correttibile che ci fa peccare. Se leggete anche nel libro di Ezechiele 36, mi sa dal versetto 25, lì si vede che verremo cambiati, allora non potremo più peccare come stiamo peccando, come siamo soggetti a questa carne, ok? Non voglio tirare fuori quei versetti, se no il video diventerà troppo lungo, ok? Perciò noi che sappiamo questa verità, speriamo e aspettiamo il ritorno del figlio Yahweh Shai affinché i nostri corpi possano essere cambiati, ok? Perciò non gratifichiamo questa carne. E andiamo avanti, dice infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ed è questo che dicevo appena all'inizio del video, ok? Spesso c'è quel sentimento là di tornare a fare, di tornare nel passato dopo aver ricevuto questa verità. C'è quella voglia, qualche volta ci sentiamo svogliati di fare qualche lezione, di studiare le scritture, vogliamo tornare a fumare qualche sigaretta che distrugge il nostro corpo, ok? Il tempio del padre. Vogliamo gratificare questa carne qua, soddisfazione carnale, ok? Vogliamo fare qualcosa che sappiamo che non ci gratifica lo spirito, ok? Ed è questo che sta spiegando l'Apostolo Paolo. Quando sentite così dovete sapere subito che non è lo spirito che sta lavorando, è lo spirito dell'avversario che sta lavorando, è l'avversario che sta lavorando, perché l'avversario opera attraverso la carne. Poi andremo a vedere delle situazioni che parlano di questo nelle scritture. L'avversario opera attraverso la carne, perciò noi dobbiamo essere intonati con lo spirito sempre, sempre, ok? Andiamo avanti a leggere. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Perciò quando noi pecchiamo, facciamo delle cose che subito comunque quando facciamo queste cose, lo spirito ci suggerisce subito che non abbiamo fatto giustamente queste cose qui. Lo sappiamo subito. Allora sapete che è la carne, ok? Che è controllato da chi? Satana, l'avversario, ok? Satana è un ente creato dal padre e lui fa il suo lavoro. Il suo lavoro è quello di essere da avversario a noi, ok? Di essere da avversario a ciò che è bene, ok? Perciò ci tenta, ci mette nelle calunnie, ok? Ci tira dietro. Perciò dobbiamo essere intonati sempre nello spirito, se no perdiamo tutto quello che costruiamo da tanti anni. Andiamo avanti così riuscite a vedere la fine di quello che dice Paolo qui, che è molto importante. E torno di nuovo e dice ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Perciò quando cominciate ad avere quella voglia di fare delle cose che non vanno, ok? Dei peccati. sapete che non siete più gestiti più da voi stessi, ok? Siete controllati e gestiti da Satana, non siete più voi. In quest'atto non siete più voi. Ricordatevi questo. Poi vi farò vedere delle prove. Nel versetto 21 dice, mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare bene, il male si trova in me. Ok? Spesso, tanti di noi, appena abbiamo ricevuto questa verità, sappiamo già il bene e sappiamo quale è il male, ok? Sappiamo le cose che non dobbiamo fare. Il male è andare a fare le cose fuori dal comandamento del padre, ok? Perciò non mangiare il maiale, ok? Osservare i comandamenti al meglio della nostra capacità. Ce ne sono 613 comandamenti. È vero che non possiamo mettere tutto in pratica, perché alcuni comandamenti, essendo in schiavitù, non possiamo mettere, per esempio, quello di osservare tutti i shabbat. Molti di noi, i nostri lavori non ci permettono. Perciò là abbiamo la grazia di Hawashai, ok? Ma altri che possiamo ben mettere in pratica. Quando non li mettiamo in pratica, pensate e sapete che non siete più voi stessi. È Satana che vi sta guidando, ok? Ed è questo che sta spiegando l'Apostolo Paolo qui. Mi trovo dunque sotto questa legge che voglio fare bene, perché il bene è dentro di noi, ok? È questa conoscenza che il padre ci ha messo. Una volta che il padre apre, il padre ci fa, ci mette in contatto attraverso il nostro gene di Dio, ok? Infatti scientificamente c'è un gene dentro di noi che si chiama il gene di Dio e si chiama V-M-A-T-2, ok? Fate una ricerca su questo gene, ok? Ho visto comunque che in italiano hanno cercato di censurare informazioni su questo gene qui, ma ho fatto un video in passato, ok? Andate a vedere, ora non mi ricordo il titolo del video, ok? Che ho parlato. L'ho fatto ancora qualche video fa, che parla, sì, l'Igregia dello Stato. L'Igregia dello Stato è il titolo del video. L'ho toccato su questo argomento qui. È importante che lo andate a vedere per saperne di più. Una volta che il padre si mette in contatto con questo gene, dà un risveglio in te di conoscere e accettare la verità, ok? Poi tanti accettano questa verità lo portano saldamente alla fine e molti invece no, ok? Perché tanti sono chiamati, ma pochi sono scelti, ok? Andiamo avanti, ok? Infatti io mi compiaccio della legge del padre Yahweh secondo l'uomo interiore. Questo l'uomo interiore che sta parlando è lo spirito perché il padre ha a che fare con il nostro spirito e il padre non tratta con la nostra carne, ok? Io mi compiaccio della legge di Yahweh secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nella mia membra. La membra parla del corpo, la carne, ok? Ok? Ma vedo un'altra legge nella mia membra che combatte contro la legge della mia mente, ok? Dice che vede un'altra legge, è questa legge carnale, la legge che abbiamo imparato da questo mondo, tutte le calunnie di questo mondo, i peccati, ok? Che combatte contro la legge della sua mente. La mente è lo spirito, ok? Se andate a vedere più a profondo il significato della mente, è lo spirito, ok? Dice ma vedo un'altra legge nella mia membra, nel mio corpo, che combatte contro la legge del mio spirito, rende prigioniero della legge e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nella mia membra. Avete visto? Sì, è chiaro là. Lui vede quest'altra legge, ok? Che è il peccato, ok? Che combatte contro il suo spirito che è quello connesso al padre, ok? E lo rende prigioniero della legge del peccato che è nella, nella, nelle, nelle sue membri che è il corpo, ok? E vedete spesso sapete queste, 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 queste comandamenti, sapete questa verità e siete saldi nella verità. Qualche volta vi viene tutta questa euforia di pecare, di fare cose assolutamente fuori comandamento, ok? E la sentite forte, ok? Là ci vuole, ci vuole proprio lo spirito di nuovo. Ecco perché dobbiamo sempre studiare, pregare, ok? Affinché Satana non ci fa tornare dietro. Perché quando torniamo dietro è difficile poi ritornare, ok? In quella purezza di vita che abbiamo, in quella luce. Perché una volta torniamo nel nostro passato, nelle tenebre, è difficile ritornare, ritornare. Fidatevi, ascoltate questa cosa che sto dicendo, che lo dico dall'esperienza, ok? Ed è così tanti sono caduti, tanti uomini che erano nella verità sono caduti, ok? Da un peccato sono tornati a fare altri tanti peccati e non si sono mai più riusciti a tirarsi fuori, ok? Andiamo avanti. Anzi, leggo da qui. Infatti, io mi compiaccio della legge di Yahweh secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nella mia membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nella mia membra. Me è infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Avete visto? Uomini gratificano il corpo, ok? Il corpo chiama il peccato, ok? Il corpo non vuole soffrire, il corpo vuole essere, il corpo ha paura, non vuole soffrire, non vuole nemmeno sentire la parola sofferenza. Perciò tutti gli uomini cercano di gratificarlo sempre, ok? Perché è questo, il corpo non vuole soffrire, non vuole sofferenza, ma lo spirito, quando è lo spirito del padre, sofferenza fa parte di questo percorso. Come avete visto nei video che ho fatto in passato, la sofferenza fa parte di questo percorso. Allora avete visto come si contraddicono lo spirito e la carne, ok? Andiamo a leggere. Me è infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Yahweh per mezzo di Yahweh Shai, nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Yahweh, ma con la carne da leggere percato, ok? Avete visto? Comunque grazie si ha rese al padre Yahweh attraverso il suo figlio Yahweh Shai, nostro Signore. Avete visto che la mente è lo spirito. Ora andiamo a vedere, vi faccio vedere delle prove che quando gratifichiamo la carne e andiamo in peccato, non facciamo altro che gratificare Satana, ok? Leggo dal libro di Matteo 26, versetto 41. Inizio qui. Dice, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ok? Questo è Yahweh Shai che sta parlando, ok? Yahweh Shai dice, vegliate e pregate, ok? Dobbiamo essere vegliati e osservanti, ok? Dobbiamo essere attenti a tutto quello che ci succede attorno, ok? E pregare sempre e ricordare di studiare ogni giorno per giorno, giorno per giorno le scritture. Le scritture devono avere un ritmo bellissimo nelle nostre orecchie, quando siamo così, allora siamo in sintonia con lo spirito del padre Yahweh, perché il mondo è pieno di cattiveria e sporcizia, ok? Ora, per farvi vedere quelle cose che dicevo, volevo solamente leggervi quel versetto prima, sempre nel libro di Matteo, capitolo 16, leggo dal versetto 21. E questo è la faccenda che è successo quando Yahweh Shai, ok? Anzi, leggo da qui perché è capibile. Da allora, Yahweh Shai cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdozi, degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno, ok? Yahweh Shai spiegava ai suoi discepoli quello che doveva accadere a lui quando andrà a Gerusalemme, ok? Che soffrirà, ok? Da parte degli anziani e sarà ucciso e Pietro era con lui, che fa parte dei suoi discepoli e Pietro appena ha sentito delle due parole chiavi, soffrire e ucciso, ok? Ha perso il controllo, ok? Gli è andato via lo spirito e ha cominciato a pensare nella carne, perché è questo che fa la carne. La carne non vuole sentire sofferenze, ha paura, la carne non ragiona come dovrebbe ragionare lo spirito e ciò va in contraddizione allo spirito e vedete cosa è successo poi. Pietro trattò da parte, ok? Cominciò a rimproverarlo dicendo Yahweh non voglia, Signore, questo non si avverrà mai, avete visto? Cioè lui dice ha trattato Yahweh Shai, ha tirato a parte Yahweh Shai e dice no, Dio non vuole questo, ma invece deve succedere questa cosa per far venire le profezie. Ora andiamo a vedere che risposta l'ha dato Yahweh Shai. Ma Yahweh Shai voltatosi e disse a Pietro, vattene via di me, Satana. Tu mi sei di scandalo, ok? Avete visto? Perché Yahweh Shai ha risposto, vattene via di me, Satana. Ha detto così perché in quel momento Satana aveva controllo di lui. Lui stava ragionando attraverso la carne, che l'uomo base ragiona con la carne, ok? Non ragiona con lo spirito. Noi dobbiamo essere in spirito. Ora avete visto? Quando gratificate la carne e fate tutte queste cose qui, gratificate non altro che Satana, ok? Ora andiamo a leggere un'altra situazione che è successo, molto simile a questo, ma è successo all'Apostolo Paolo, mi sa. Allora, no, ho Pietro, non mi ricordo chi è l'Apostolo. Atti degli Apostoli, capitolo 21, leggo da versetto 10, che dice Eravamo là da molti giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e presa la cintura di Paolo, ok? Si trattava di Paolo? La cintura di Paolo. Si legò in piedi e le mani e disse, questo dice lo Spirito Santo. A Gerusalemme i giudei leggeranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani, che sono i romani. Quando udimo questo, anzi, avete visto? Questo profeta ha profetizzato, ok? Che Paolo sarebbe stato preso a Gerusalemme dai giudei, dai romani, ok? Dai figli di Esau, perché loro governavano sulla terra di Gerusalemme a quell'epoca là, ok? E dice che lo avranno legato, ok? Anzi, leggiamo. Questo dice lo Spirito Santo. A Gerusalemme i giudei leggeranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Quando udimo questo, sì, dice che lo avranno legato, perciò vuol dire che lo avranno arrestato, poi poteva succedere altro, ok? E questa è la parola chiave. Lo avranno legato. E appena tutti là hanno sentito, si è messo in moto la carne dell'uomo, che non vuole sentire sofferenze, non vuole sentire nulla. Invece, questo lavoro, coloro che vengono a salvare e a seguire i padri, devono farsi pronto anche alle sofferenze, dice le scritture. Non sarà tutto rose. Ora andiamo a vedere cosa gli risponde Paolo. Quando udimo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Allora loro hanno sentito questo, un profeta dire questo, hanno pregato a Paolo di non andare a Gerusalemme. E ora sentiamo cosa dice Paolo. Paolo allora rispose, Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore, sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Yahweh Shai. Avete visto? Paolo gli ha risposto poi che cosa state facendo? Che io non sono solo pronto ad essere legato, sono anche pronto a morire per il nostro Signore Yahweh Shai. Ed è questo lo spirito da avere, ok? Coloro che vengono in questa verità, questo è lo spirito da avere. Perché quando ragioniamo naturalmente, l'uomo natura, ok? L'uomo base ragiona attraverso la carne, quello che vede, ok? La paura, desideri, volere, queste cose qui. Noi dobbiamo essere oltre. Dobbiamo usare lo spirito, ok? Quando usiamo lo spirito siamo in contatto con il Padre, con lo Spirito Santo e siamo strumenti nelle sue mani. Ma quando andiamo attraverso la carne, siamo strumenti nelle mani dell'avversario che è Satana, ok? Spero che questa lezione vi ha edificato. Potevo rendere questa lezione molto più profonda, ma preferisco fare questo video corto. E ho visto l'Apostolo Gabbar della Great Mewstone GMS che ha fatto questa lezione che mi ha ispirato, ok? A condividerlo, ok? Con i fratelli qui in Italia, ok? Spero che vi ha edificato e spero che voi possiate sempre studiare le scritture e essere sempre in sintonia con lo spirito e non gratificare la carne. Che la carne ci porta solamente ai peccati, ok? Paura e tutte queste cose qui non devono fare parte di noi. E detto questo, do a tutti i lodi e ringraziamenti al Padre Yahawa, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Rukah, Kodash. Per coloro che vogliono sapere il significato di queste cose, guardate il video che ho fatto in precedenza. E poi, soprattutto, all'inizio di ogni video, credo di spiegare cosa vuol dire, ok? I miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità e i miei saluti alla Casa di Israele. Alla prossima. Shalom.